una segnalazione anonima alla nostra redazione per fornire una notizia che sa dell'incredibile in altre parole sa di macrabo nelle prossimità della zona mirto tra partinico e borgetto misto a un cumulo di rifiuti qualcuno aveva avvistato delle ossa pare umane per dovere deontologico al fine di verificare la fondatezza della notizia e di individuare la competenza territoriale senza comunque creare allarmismi abbiamo interessato la protezione civile di partinico nella considerazione che la stessa conosce il territorio perlustrato anche in occasione di incendi la protezione civile prontamente si è recato nel posto avvisando subito dopo i carabinieri al di là comunque del reato ancora da accertare il fatto registrato è gravissimo ed è la conferma se davvero si tratta di resti umani che viviamo in un mondo dove viene addirittura impedito ai morti o meglio a ciò che resta di una vita umana di riposare in un luogo sacro e non tra i rifiuti in completo stato di abbandono ci siamo quasi abituati a convivere con i rifiuti ma non possiamo permettere che gesti inconsulti possano offendere il decoro pubblico il sindaco di borgetto giuseppe davi recatosi sul posto e informato dei fatti non vuole almeno per il momento rilasciare dichiarazioni aspettando l'esito delle indagini immagini raccapriccianti di lunghe distese di cumuli che scorrono lungo il e con le nostre telecamere continuiamo la la nostra passeggiata tra i rifiuti è pervenuta alla nostra redazione una lettera aperta da parte di taluni residenti di questa zona i quali stanchi di questo scempio si sono rivolte alle nostre telecamere noi ancora una volta diciamo basta non servono le parole infatti non ci sarà nessun audio in questo servizio basta fare scorrere le immagini che come abbiamo registrato in questo quadernone sono rifiuti che superano i 700 metri 700 metri anzi oltre oltre 700 metri di rifiuti questa è una lettera è un appunto che noi vogliamo che il sindaco di partinico l'amministrazione gli organi competenti ne prendano atto per il sindaco e l'amministrazione tutta lasciamo il nostro messaggio in questo quadernone che abbiamo appunto riscontrato tra i rifiuti mandare a casa il liquidatore del lato palermo 1 costituire un consorzio fra comuni fare decollare la raccolta differenziale per fermare l'emergenza occorre partire da qui il comitato intercomunale per l'ambiente lancia la sua proposta in un'assemblea pubblica il comitato che ha come capofila lega ambiente e l'adesione dell'osservatorio sviluppo e legalità il fatto per la salute e l'ambiente sindacati e singoli cittadini snocciola dati impietosi parla di spese allegre e incontrollate costi esorbidanti per i 12 comuni che fanno parte del lato a fronte di un servizio scadente a partinico afferma il comitato il costo di gestione è passato dai 3 milioni del 2006 ai 6 milioni di euro di oggi i costi sono lievitati a dismisura anche perché l'emergenza non è l'eccezione ma la regola un meccanismo che l'ex assessore Bartolo Parrino spiega così i costi sono decuplicati nel corso degli anni a carico del comune di partinico nello specifico ma a carico dei comuni l'emergenza è continua perché io ho contestato ai vertici della società che dietro l'emergenza si gestivano i rifiuti e gli appalti inerenti ai rifiuti in straordinarietà facendo un ricorso illegittimo ed illegale all'articolo 54 cioè alla procedura negoziata, all'articolo 54 del codice dei contratti che è un ricorso che si può fare solo in emergenza a questo istituto ma a partinico per lato Palermo 1 era diventato ed è diventato la prassi, la normalità questo l'ho contestato all'avvocato Gerace, al commissario liquidatore al quale bisogna dire che non dobbiamo piangere miseria dei comuni che non pagano ma bisogna giustificare ai cittadini la mala gestione che lui ha avuto del lato Palermo 1 e le continue ingiustificate spese che hanno fatto lievitare enormemente il costo del servizio quindi l'emergenza è diventata quasi fatta apposta l'emergenza accade ciclicamente ogni 30-40 giorni io l'ho contestato, ci sono i documenti che lo possono confermare ogni 30-40 giorni c'è l'emergenza ogni 30-40 giorni in questa emergenza vengono fatti con ricorso all'articolo 54 affidamenti diretti per ricorso a noleggi di mezzi o comunque a gestione in emergenza di straordinarietà dei rifiuti questa è la cosa che mi sento di contestare per questo io ho chiesto le dimissioni del commissario liquidatore Avvocato Geraci che invece è stato garantito dal sindaco di Partinico Salvolo Biundo il quale ha piuttosto preferito rimuovere un assessore scomodo che contestava lei legittimità di un ato piuttosto che tutelare e garantire i cittadini di Partinico e quindi del proprio territorio e quindi richiedere una gestione più corretta, più trasparente e più oculata della società d'ambito la testimonianza senza peli sulla lingua di Parrino fa il paio con le affermazioni di un altro ex eccellente l'avvocato Giacomo Palazzolo dimessosi da presidente del consorzio servizi integrati per le continue pressioni parole che acclarano il fallimento di un sistema perverso e la necessità di voltare pagina cosa fare dunque per uscire dall'emergenza? il comitato intercomunale lancia le sue proposte le dimissioni immediate del liquidatore le dimissioni dei sindaci corresponsabili altrettanto per non avere saputo trovare soluzioni adeguate per quanto riguarda questo problema la costituzione di un tavolo tecnico con tutti coloro i quali i membri soggetti dei 12 comuni intendono come noi portare avanti un processo di rinnovamento diciamo delle gestioni poi rispondere a questa domanda perché non si fa una battaglia per recuperare la discarica a Baroria quando invece siamo costretti a ricorrere ai privati che fanno con le discariche private e gli affari ma non solo che fino a fatto il miliardo che il comune di Partenico ai tempi della gestione giordano ha ricevuto dalla regione per costruire un'isola ecologica nessuno ne parla più poi procedere alla costituzione di un consorzio subito quindi eliminare immediatamente con la costituzione del consorzio tra i comuni un nuovo strumento di gestione che anticipa sostanzialmente quello che la riforma chiamiamo dall'Assemblea regionale se sia il Presidente Crocetta sta per realizzare Dopo la pausa natalizia riprende il corso di formazione all'impegno sociale e politico organizzato dalla Chiesa Madre Monsignor Gascale Goppuso ha tenuto a Rosariello un incontro sul tema il bene comune nell'impegno sociale e politico un tema che riguarda tutta la società perché il bene comune assieme alla solidarietà, sussidierietà e partecipazione sono i principi della dottrina sociale della Chiesa che si rivolgono non soltanto ai cattolici ma anche ai laici si rivolgono a tutti perché la Chiesa per il suo stile la sua storia non fa distinzione e cerca di coinvolgere i cosiddetti uomini di buona volontà come diceva Giovanni XXIII il bene comune è non la somma del bene individuale ma è proprio quel bene di tutti e di tutto tutta la persona e tutte le persone dei gruppi, dei singoli e delle famiglie in modo tale che ci sia il famoso benessere il benessere è la conseguenza del bene comune evidentemente il bene comune c'è anche la disponibilità di ognuno per la partecipazione responsabile al bene di tutti come c'è anche da parte dello Stato il dovere di venire incontro ai bisogni dei singoli limitando particolarmente l'individualità e soprattutto l'egoismo di pochi questo si chiama sussidierietà da parte dello Stato ma c'è anche il discorso della partecipazione fare in modo cioè che le persone possano con responsabilità sentirsi artefici e attori della cosa pubblica non passivi non persone che sono gestite da altre ma persone che debbano altre ad essere gestiti ma soprattutto governati in maniera democratica e responsabile Oggi come si fa a rilanciare questi principi in una società in crisi? Ma credo che sia importante la mentalizzazione mentalizzare, fare in modo che tutti possano avere questi stessi principi e metterli in pratica soprattutto a livello democratico quando ci saranno le elezioni fare in modo che non ci siano privilegi e partiti e singoli per interessi privati ma che si privilegi bene di tutti in modo che tutti ne trovino un beneficio e un benessere Uno dei problemi con il quale Partinico si trova costantemente a doversi confrontare in quest'ultimo periodo è quello della microcriminalità variamente caratterizzato da episodi di delinquenza occasionale e vandalismo fino ad abbracciare tipologie di reati ancora più gravi episodi che preoccupano commercianti e semplici cittadini a scendere in campo oggi anche le organizzazioni di categoria CNA e Confcommercio chiedono maggiori controlli nel territorio C'è un'alarmia sociale c'è una microcriminalità che è diffusa c'è anche qualcosa di più tant'è che in questi giorni si è visto che addirittura c'è pure qualche commerciante taglieggiato quindi c'è qualcosa che non va e noi siccome siamo organizzazioni di categoria che sta attenta a queste cose e quindi come CNA chiediamo con forza un tavolo tecnico all'amministrazione comunale dove ci siano attorno le forze dell'ordine tutte a partire dai vigili urbani per far sì che finalmente possa essere stabilito come e che cosa fare per evitare questo problema Due giorni fa il sindaco ha incontrato le forze dell'ordine per il servizio di videosorveglianza che presto potrebbe arrivare in paese basta questo deterrente? Questo ha fatto bene l'amministrazione a diciamo a incominciare questo percorso ma è un percorso che chiaramente è una strada molto lunga e quindi non possiamo aspettare che avvenga la videosorveglianza che sicuramente darà i suoi frutti ma credo che ci sia una necessità impellente che non sia solo della videosorveglianza Ci sono stati parecchi casi di scippo e di furti che avvengono nel nostro territorio e abbiamo avuto anche sollecitazioni da parte dei nostri associati e di commercianti che ritengono che non ci sia una sicurezza adeguata nel nostro territorio questo lo vediamo giornalmente che si registrano sia nelle case private sia anche per le strade sia anche davanti ai negozi a fatti che non sono diciamo confacenti con quello che è la nostra il nostro territorio e riscontriamo che questi fatti così gravi che avvengono nel nostro territorio questi fatti di micro criminalità che si stanno verificando sono dei fatti ai quali bisogna porre dei rimedi e noi il rimedio che noi crediamo di anteporre è quello di fare la prevenzione prevenzione significa sollecitare le forze dell'ordine sia la guardia di finanze i carabinieri la polizia i vigili urbani in particolar modo e quindi in questo caso l'amministrazione comunale affinché si attivi ad un tavolo insieme alla prefettura affinché ci sia la salvaguardia del nostro territorio noi parliamo salvaguardia e sicurezza questo diciamo è la cosa più importante che noi riteniamo di fare è che se riusciamo a coinvolgere anche altre forze sociali in questo tipo di ragionamento riusciamo ad essere più incisivi e più forti per ottenere un risultato che sia confacente sia nei confronti dei commercianti sia nei confronti di tutti i cittadini perché tutti i cittadini sono esasperati di quello che sta succedendo nelle nostre zone un segretario in comproprietà fra due comuni l'iniziativa è stata concordata dal sindaco di Gerninello Giovanni Geloso e dal collega di Trappeto Giuseppe Vitale nell'ottica di una politica di rigore che punta a ridurre la spesa pubblica si tira la cinghia insomma dove si può ad essa guidare l'apparato burocratico dei due municipi sarà la dottoressa Anna Maria Orlando da circa sei anni in servizio a Giardinello qui il funzionario manterrà la titolarità prestando servizio per tre giorni alla settimana mentre gli altri due giorni li dedicherà a Trappeto la spesa sarà ripartita per il 60% a carico del bilancio di Giardinello con un risparmio annuo di circa 25.000 euro e per il restante 40 su quello di Trappeto l'accordo tra i due enti dovrà essere sancito però dai rispettivi consigli comunali così come la relativa convenzione da sottoscrivere a Giardinello l'argomento è stato inserito all'ordine del giorno della prossima seduta in aula fissata per il giorno 24 alle ore 20 è un modo per reperire risorse dice il sindaco di Giardinello Giovanni Geloso in una situazione economica deficitaria saranno garantiti comunque gli stessi standard operativi negli uffici municipali abbiamo avviato un processo di razionalizzazione della spesa pubblica intervenendo laddove è possibile del resto la legge regionale favorisce l'integrazione dei servizi tra più enti territoriali anche il segretario comunale ha condiviso questa scelta analoga iniziativa è stata già intrapresa qualche settimana fa dalle amministrazioni comunali di Montelepre Balestrate pure in questo caso nel prossimo biennio il segretario comunale farà la spola tra i due municipi due persone che si trovavano ai domiciliari sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Monreale l'azione spiegano i militari si inquadra nell'ambito di un vasto servizio coordinato di controllo del territorio effettuato mercoledì scorso in carcere sono finiti Anna Salerno 43 anni ed Angelo Marino 45 entrambi di Monreale la donna che è stata condotta al Pagliarelli aveva già più volte violato le prescrizioni della misura a cui era sottoposta il 10 gennaio scorso era stata peraltro già arrestata per evasione ma all'esito della convalide era stata nuovamente posta ai domiciliari il tribunale di sorveglianza però su richiesta dei carabinieri che avevano contestato le diverse infrazioni perpetrate e la recente evasione ha successivamente inasprito la misura con la custodia in carcere è stato inoltre tratto in arresto il 45enne Angelo Marino sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per espiare la pena di quattro mesi di reclusione per il reato di ricettazione numerosi inoltre le denunce stato di libertà proprio a Monreale a seguito di un'accurata attività investigativa i militari hanno denunciato per il reato di truffa LPP che con una serie di raggiri aveva segnalato a un'assicurazione un sinistro stradale mai avvenuto con una ignara malcapitata al fine di percepire ai suoi danni l'indennizzo a Sancipirrello il pruri pregiudicato Stefano Vassallo è stato deferito per avere violato le prescrizioni previste dalla misura della sorveglianza speciale cui è sottoposto poiché è giunto in ritardo all'orario di firma impostogli inoltre a seguito di serrati controlli alla circolazione stradale sono stati deferiti cinque soggetti per violazione degli obblighi di custodia di veicoli di loro proprietà già sottoposti a sequestro amministrativo un cittadino che aveva rifiutato di fornire le proprie generalità durante un controllo una donna palermitana che a seguito di perquisizione veicolare veniva trovata in possesso ingiustificato nel cruscotto della vettura di un coltello da cucina di 40 centimetri due persone per guida in stato d'ebbrezza durante lo stesso servizio due minori morialesi venivano colti in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish e segnalati al prefetto per uso personale di sostanza stupefacente i carabinieri della compagnia di morreale nel corso dei periodici accertamenti fatti congiuntamente ai tecnici della società dell'Enel per arginare il sempre più diffuso fenomeno dei furti sulle pubbliche utenze hanno arrestato due persone si tratta di G.G morrealese di 58 anni gestore dell'esercizio Aurora Market corrente sulla strada provinciale nella frazione di Pioppo il prevenuto è risultato responsabile di aver alterato il contatore afferente alla sua attività di rivendita di alimentari con un magnete così da registrare consumi inferiori del 90% circa rispetto a quelli effettivi il secondo arresto è stato operato nei confronti di un operaio G.C. 37 anni di Sancipirrello che aveva manomesso il contatore realizzando un allaccio diretto alla rete elettrica pubblica entrambi i trasgressori hanno passato la notte ai domiciliari e sono stati sottoposti al rito direttissimo conclusasi con la convalida degli arresti e avendo richiesto i termini a difesa sono stati rimessi l'invertà poiché incensurati in attesa delle ulteriori fasi del dibattimento questi questi comunque dati relativi agli arresti e le denunce eseguiti dai carabinieri dall'inizio dell'anno fino alla data odierna relativi al reato di furto di energia elettrica e truffa nove persone tratte in arresto di cui sette uomini e due donne una persona denunciata in stato di libertà di cui un uomo i carabinieri di Capaci nel corso di un servizio di controllo del territorio peso al contrasto di reati predatori hanno arrestato due ladri palermitani identificati in Filippo Patti 37 anni e Salvatore Candela 21 anni entrambi nulla facenti i due malviventi non avevano adottato particolari cautele confidando evidentemente nella clandestinità del loro operato la loro sicurezza dovuta probabilmente anche al fatto di agire in un luogo pressoché in stato di abbandono stavolta però è stato loro fatale avevano infatti da poco varcato i cancelli del residence pagano di Capaci quando i carabinieri della locale stazione nel corso di un servizio di controllo del territorio li hanno sorpresi con le mani nel sacco al sopraggiungere dei militari due sono stati infatti colti nell'atto di trafugare fili in rame infissi in alluminio rubinetterie in ottone faretti elettrici e motori per sollevamento acqua vistisi scoperti hanno cercato di darsi alla fuga ma la pronta reazione dei carabinieri ha immediatamente vanificato il maldestro tentativo inevitabilmente è scattato l'arresto per i due ladri palermitani resisi colpevoli di furto aggravato perché perpetrato usando violenza sulle cose recuperata e restituita a legittimi proprietari la refurtiva il cui valore complessivo è stimabile in 10.000 euro i militari dell'arma hanno condotto i due arrestati in caserma per gli accettamenti di rito prima di tradurri presso le rispettive abitazioni il regime di arresti domiciliari sottoposti al rito direttissimo il giudice ha convalidato gli arresti ma non ritenendo la sussistenza di particolari esigenze cautelare ha posto in libertà i due soggetti è giunta alla nostra redazione una lettera con la quale si comunica che il gruppo scout partinico 2 con il patrocinio del comune di partinico è lieto di invitare la cittadinanza alla mostra dal titolo c'era una volta solo la mail e la bigotta che si terrà dal 20 al 27 gennaio 2013 presso locali della biblioteca comunale palazzo dei carmelitani l'inaugurazione sarà domenica 20 gennaio alle ore 11 e 30 la mostra avrà il seguente orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 19 sabbate e domenica dalle ore 17 alle ore 19 l'obiettivo è quello di riportare alla memoria e a conoscenza delle nuove generazioni l'uso manuale dello scrivere una lettera o una cartolina usando il lapis o il pennino su un materiale cartaceo dove lo scrivere era espressione di un insieme di sentimenti e emozioni arrivando anche a forme poetiche si vuole anche rivalutare la bambola di una volta realizzata prettamente a mano dove la creatività del singolo veniva stimolata dalla fantasia e manualità mestiere di cui fu un valido esempio la fu signora Francesca Scimeca passione lasciata in eredità alla figlia Mariella che ha saputo coinvolgere un gruppo di persone aderenti al gruppo scout Partinico 2 ringraziando anticipatamente si legge confidiamo in una risposta positiva da parte della cittadinanza di Partinico e a quanti visioneranno la mostra avranno l'opportunità di cimentarsi personalmente e riprendere il piacere dello scrivere un musical interamente realizzato in un centro confiscato alla mafia la bella e la positiva esperienza è firmata dall'associazione Gatto Silvestro che gestisce un bene strappato a Cosa Nostra in via Enrico Fermi ad essere stato realizzato il musical di Pinocchio celebre favola di Collodi per l'occasione l'associazione ha organizzato un vero e proprio tour che ha avuto inizio questa mattina alla scuola media Archimede il musical di Pinocchio che prende spunto dal racconto tra i più belli di sempre di Collodi in pratica valorizza la famiglia dell'amicizia per cui non si può non emozionarsi ogni volta quindi ora mi trasformo in Pinocchio e dico quattro bugie in pratica noi siamo contenti e ringrazio soprattutto di Busette che è sempre presente quando noi facciamo attività qualsiasi tipo di cosa lo mette sempre in evidenza e dovrebbe essere anzi una cosa messa in evidenza da molti aspetti mediatici perché è in un bene confiscato dove costantemente noi attiviamo diverse attività artistiche dal teatro all'aspetto proprio pittorico e di costruzione di oggetti in polistirole facciamo arte attacca il sabato mattina per cui ringraziamo di Busette che ci dà quello spazio che penso sia giusto le prossime tappe sono il 26 quindi sabato prossimo alla Real Cantina Borbonica alle 18.30 mentre poi saremo all'Inni Cassara a scuola media il 5 e il 7 febbraio il prossimo musical sempre ad opera di Manuel Frattini grande attore e coreografo di Aladin e infatti appena finiamo questo tour inizieremo subito a preparare e devo dire che già è un mese un mese e mezzo e ci lavoriamo sopra solo che per fare uno spettacolo molti io ci tengo a precisare una cosa innanzitutto a Partinico ci sono diverse associazioni artistiche però non hanno la voglia di confrontarsi io quest'anno grazie al confronto artistico che è la scuola di danza di Unitropi Canadense abbiamo realizzato il musico di Pinocchio con un livello artistico che non è indifferente e molte associazioni artistiche si chiudono nel proprio guscio e non va non va per cui quello che invito a tutti di essere di confrontarsi artisticamente e non chiudersi nel proprio gruppetto perché così non essendoci confronto non c'è crescita sociale e non c'è crescita artistica ogni spettacolo che facciamo è sempre emozionante e mi diverto sempre di più è molto bello recitare per Giuseppe D'Amburello anche se a volte ci fa arrabbiare a tutti ci fa arrabbiare 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 ci fa arrabbiare